Cari pellegrini, siamo nella seconda domenica dopo Pasqua e nella seconda domenica dopo Pasqua il Vangelo è quello di San Giovanni, capitolo decimo, versetti da undici a sedici. Il Vangelo dice così Il Buon Pastore deve agire in maniera duplice, deve da una parte conservare il proprio greggio affinché i capi del proprio greggio non si disperdano e quindi deve fare in modo che queste pecore rimangono nell'ovile e non vengano minacciate dal lupo. Chi è il lupo? Il lupo è l'avversario, il lupo è colui che vuole divorare, il lupo è ovviamente il grande avversario di Dio che minaccia continuamente la nostra esistenza, che è il demonio. Il quale demonio si serve tanto come causa remota in alcune situazioni quanto come causa prossima in altre situazioni? Si serve degli errori e allora il Buon Pastore deve saper difendere quelle che sono le pecore dagli errori, dal lupo. E quindi un'azione possiamo dire all'interno dell'ovile, ma c'è anche una situazione, un'azione ad extra, fuori l'ovile. E lo dice nell'ultimo passaggio del brano evangelico di questa domenica, nostro Signore, quando dice il Buon Pastore ha anche da chiamare altre pecore, pecore che sono fuori l'ovile. E quindi queste pecore devono essere invece condotte nell'unico ovile possibile sotto un solo pastore. Quindi il Buon Pastore deve agire ad intra, all'interno dell'ovile, ma anche ad extra dell'ovile, per fare in modo che queste pecore che sono fuori l'ovile, possano entrare nell'unico ovile possibile. Ora vedete, è inutile che ci nascondiamo, come si suol dire, dietro il filo di cotone. In queste parole siamo proprio, con queste parole, siamo proprio agli antipodi di quelli che sono le linee di tendenza, ma non solamente di tendenza della pastorale contemporanea. Oggi non si parla più di lottare contro gli errori. Anzi, l'errore viene considerato come una sorta di mezza verità, una verità ancora non completa per cui bisogna avere pazienza, così come il peccato non è altro che una buona azione, una mezza buona azione. E quindi non si deve più lottare contro gli errori, non si deve più difendere quelli che sono i fedeli cristiani, soprattutto i più semplici, quelli che hanno meno mezzi per poter discernere dagli errori. Ma nello stesso tempo si attacca addirittura la possibilità di convertire gli altri, la possibilità di fare il proselitismo. Eppure il nostro Signore Gesù Cristo, da questo punto di vista, parla in maniera molto chiara e dice che le pecore che sono fuori l'ovile bisogna sforzarsi di farle entrare nell'ovile in maniera tale che si faccia un solo vile, perché questo è l'unico vile possibile, sotto un solo pastore. Ora vedete, non si fa più un'opera di conversione per quanto riguarda coloro uguali non sono cristiani, figuriamoci per quanto riguarda le cosiddette confessioni cristiane, che pur dovrebbero essere invece definite sette cristiane. Ma vedete, prendiamo il cristianissimo ortodosso, no? Indubbiamente i cristiani ortodossi sono quelli più vicini ai cattolici, eppure se ci si riflette, nemmeno loro possono essere effettivamente definiti cristiani, nel senso vero del termine. Perché? Perché non accettano ciò che Gesù ha deciso, che è appunto il primato del Vescovo di Roma, il primato Petrino. Quindi vedete come in realtà l'ovile è uno solo. A di là di quello che purtroppo oggi si sente dire, a di là di quelle che sono le linee della pastorale contemporanea, l'ovile è uno solo, il pastore è uno solo, e il buon pastore deve difendere le pecore dal lupo, quindi azione interna all'interno della Chiesa, ma nello stesso tempo deve fare in modo che le pecore che sono fuori l'ovile possono entrare nell'unico vile possibile, che è la Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa di Nosso Signore Gesù Cristo. I Papi hanno sempre affermato, sempre affermato, la perfetta identificazione tra il nostro Signore Gesù Cristo e il suo corpo mistico che è nella storia, che è appunto la Chiesa Cattolica. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.